Signore e signori, per motivi di sicurezza vi invitiamo ad allacciare il cintore, a chiudere il tavolino, a porre lo schienale della poltrona in posizione verticale, a mantenere i braccioli abbassati e le tendine dei finestrini aperte. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere impostati in modalità d'uso aereo. I computer portatili devono essere spenti e correttamente riposti. Vi preghiamo inoltre di selezionare ora la modalità silenzioso sul vostro telefono e di non utilizzare auricolari collegati a dispositivi personali durante le fasi di rullaggio e decollo. Vi invitiamo inoltre a chiedere immediatamente il nostro intervento nel caso in cui un dispositivo elettronico si surriscaldi, produca fumo o cadendo si incastri all'interno della poltrona. Vi ricordiamo che è vietato fumare e non è consentito l'uso di sigarette elettroniche. Vi auguriamo una piacevole permanenza a bordo. Grazie. Ladies and gentlemen, for your safety, we kindly ask you to fasten your seatbelts, secure your tray tables, bring your seat back to the upright position, keep your armrest down and window blind open. From now on, all electronic devices must be set to flight mode. Laptop computers must be turned off and safely stowed. We kindly ask you to set your phones to silent mode and to refrain from using headsets connected to personal devices during taxi and take off. Please ask for immediate assistance in case a device overheats, produces smoke or falls into the seat structure. We remind you that smoking is forbidden and the use of e-cigarettes is not allowed. We wish you a pleasant stay on board. Thank you. Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcune dotazioni e procedure di sicurezza di questo aereo. Ladies and gentlemen, we would like to draw your attention to some of the safety equipment and procedures on board this aircraft. Osservate come allacciare e slacciare la cintura di sicurezza. Please pay attention on how to fasten and release your seatbelts. Questo aeromobile è dotato di quattro uscite di emergenza ubicate nella zona anteriore e posteriore. Vi invitiamo a localizzare quelle più vicine a voi. In caso di evacuazione di emergenza, un sentiero luminoso faciliterà il raggiungimento delle uscite. Lasciate a bordo ogni effetto personale e allontanatevi dall'aereo mobile. In caso di depressurizzazione, l'alloggiamento che contiene le maschere per l'ossigeno si aprirà automaticamente. Prendete una maschera e attivatela tirando energicamente verso di voi. Portatela sul viso coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Solo dopo averla indossata aiutate coloro che hanno bisogno della vostra assistenza. La maschera funziona anche se il sacchetto non si gonfia. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. Dopo aver aperto il contenitore, indossate il salvagente come vi stanno mostrando gli assistenti di volo. Agganciate le cinghie sul davanti e tirate le estremità in modo che aderisca bene. Gonfiate il salvagente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo, tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate nei tubi di gomma. La lifejacket è in la pocket under la vostra sede. Open il contenitore e mettere il jacket on, come la cabin attendenti sono ora dimostrata. Fasten la clipse in fronte e pulle la strada per ajustare il jacket a la vostra size. Inflate il jacket per pulire le reddezioni, prima di lasciare l'aereo. Se necessario, l'air supply può essere top up by blowing into the rubber tubes. For further information, please check the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza. Riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie per l'attenzione. Riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. questo volo per Roma Femicino, tempo di volo di circa 50 minuti, tempo buono lungo la rotta, buono a destinazione, 30 gradi a Roma Femicino, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un piacevole a voi. Ladies and gentlemen, good afternoon, canta speak, welcome on board, we're time to Roma Femicino, about 50 minutes, weather will be clear on the route, nice weather at destination with temperature of 30 degrees, thank you and a nice spot. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 per il video di per departure. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.